I carabinieri della compagnia di Salerno, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal comando provinciale di Salerno, hanno deferito all'autorità giudiziaria quattro persone ritenute responsabili a vario titolo di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. A Salerno i militari della sezione radiomobile hanno proceduto al controllo di un'autovettura con due giovani a bordo, rimanendo nell'abitacolo 50 grammi di hashish. Uno dei due ragazzi è stato deferito in stato di libertà per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre a Salerno gli uomini dell'arma della stazione principale hanno deferito in stato di libertà un 45enne già noto alle forze di polizia che nei giorni scorsi si è reso responsabili di due furti. Il primo all'interno di un condominio dove ha asportato un monitor, mentre il secondo all'interno di un ristorante dove è riuscito ad asportare, dopo aver forzato la porta d'ingresso, diverse bottiglie di vino e altro materiale rinvenuto in possesso dell'uomo all'atto del controllo. Durante i servizi è stato individuato e deferito all'autorità giudiziaria anche un pregiudicato 50enne del luogo sottoposto alla libertà controllata che è stato sorpreso fuori dall'abitazione di residenza senza alcuna autorizzazione. A Vetri sul mare, i carabinieri della locale stazione del nucleo Cinofili hanno deferito in stato di libertà un 27enne del luogo che nel corso di una perquisizione domiciliare è stato sorpreso in possesso di quasi 3 grammi di cocaina, oltre alla somma di Euro 35.000 in contanti che è stata sottoposta a sequestro. Infine, blitz antidroga a nocere inferiore. Sono stati arrestati due uomini per spaccio di sostanze stupefacenti, quali cocaina e hashish, fermati durante l'operazione dei carabinieri, un incensurato del rione Montevescovado, che al termine della perquisizione è stato trovato in possesso di 4 kg di hashish e 50 grammi di cocaina, e un noto pregiudicato del quartiere cicalesi, il quale è stato sorpreso con 250 grammi di hashish.